Signor Bettarini, che significato ha per lei ricongiungersi professionalmente con sua moglie Simona Ventura? Ma allora, tutte quelle polemiche quando vi eravate separati, erano vere o ci stavate pigliando tutti per i fondelli? Ma che, ci avete preso per scemi? Signor Bettarini, ma lo sa che nonostante alla talpa lei abbia mangiato gli occhi dei buoi e ha mantenuto un bel aspetto? Ma cosa fa per mantenersi così in forma? Ci mostra la tartaruga? Dica la verità, meglio l'avventura o la perego? Oh, ma cosa ha capito? Non nel privato! E quella volta che ha partecipato a un programma di ballo insieme al principe Emanuele Filiberto, cosa era successo? Si era bevuto il cervello come alla talpa? Signor Bettarini, ancora capace di giocare con la palla? Grazie a tutti!